amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno buongiorno un cazzo buonasera buonasera le parole di moji mi spaventano mi spaventano e non poco mi spaventano non poco sulla sua pagina facebook moji tuona tuona perché questo è un fulmine al ciel sereno una notizia tragica tragica per il sottoscritto tragica se la guerra si qualifica per la prossima champions league massimiliano allegri avrà per diritto rinomato il contratto per altri due anni questa è una notizia distruttiva ora non lo so se moji dice minchiate non penso che moji dica minchiate non posso pensare che si metta a dire una minchiata così destabilizzante almeno per quanto mi riguarda non lo so ma se ciò fosse vero sarebbe veramente una tragedia di proporzioni bibliche bibliche io spero di no spero che sia una notizia non vera moji spero che tu ti stia sbagliando con tutto il cuore perché noi allegri non lo vogliamo noi allegri non lo vogliamo noi allegri non lo vogliamo ma sì cingazzati fino alla fine forza i due sì cingazzati fino alla fine